Si intitola L'Onda del Cuore, l'iniziativa scopo benefico, incentrata su Miranda Elezzi, che si terrà sabato e domenica a Marotta. Ersilia, da cosa è nata l'idea e qual è lo scopo? Dunque, l'idea è nata perché io da tanto tempo conosco Miranda, che è l'autrice di un libro. Questo libro di poesie si chiama Se fossi l'amore. Dove si svolgerà l'iniziativa? L'iniziativa si svolge a Marotta, alla sala Pierino Ciriachi, è una sala attigua al Bocciodromo di Marotta. E lì ci sarà questo evento a cui sono stati dedicati due giorni. Il primo giorno, apertura di una mostra di opere, di cui poi parleremo, ma soprattutto c'è la presentazione di questo libro, il cui ricavato della vendita del libro verrà devoluto completamente all'Andos. È un'associazione donne operate al seno di Senigallia. La mostra che verrà inaugurata a sabato invece di che cosa si tratta? L'autrice ha una creatività un po' unica perché raccoglie oggetti spiaggiati, quindi lungo la riva del mare, in modo particolare vetri, li mette insieme e ne ricopre alcune, diciamo, in questo caso, palle di forma sferica, quindi oppure cornici, oppure lampade, oppure orologi. Miranda l'hai sbarcata a Brindisi dall'Albania, ormai in Italia da più di 30 anni. La sua passione per l'arte e per la poesia l'ha avuta fin da bambina? Sì, iniziai a scrivere prima volta che avevo solo 8 anni e la passione ne risale tanti anni fa. e poi, dopo tanti anni di lavoro e la vita di routine di tutti i giorni, che ne passano 25, non pochi, dopo ribussa di nuovo in testa. Fu una scintilla e risveglia la poesia. Ero convinta di avere tutto, avere una bella famiglia, avere la casa, avere il lavoro, avere la gente che mi amava, mi stimava. Eppure ero contenta, mi sapevo accontentare, ma non mi sentivo soddisfatta. E la vita mi regalò il tempo, perché mio figlio andò a studiare lontano, nella mia patria, e lì andai a scoperta di me stessa. Ecco, dico, la vita mi ha regalato in questo momento il tempo per capire chi sono. E lì busso la poesia, io raccolgo tutto in un libro e, alla morte di mia mamma, decido di regalargli questa cosa. E in quattro mesi non è facile perdere tre cari tra le mura di casa e reggere in piedi anche dopo una brutta malattia che era il tumore al seno. Ma a me tutto ciò mi ha trovato consapevole che è la vita, è la vita che arriva e bisogna essere solo pronti a saper cogliere tutto e cogliere tutto ciò che ci vuole insegnare. Perché poi l'idea di regalarlo il libro? L'idea di regalarlo nasce perché io ho saputo uscirne così, vincente, anche perché ho captato tutti questi segnali in tempo. Ma so che tante ragazze, tante donne come me, hanno e trovano molto difficoltà nell'affrontare questo tipo di malattia. e anche ho deciso di donarlo perché accanto a queste donne, che io non ho avuto bisogno e sono grata alla vita per quando ho fatto l'intervento e tutto, perché c'è tante persone che aiutano. Ecco, ho deciso di donarlo a questa associazione perché ci mettono tutto l'anima a aiutare queste persone.